Come è stato possibile ottenere la certificazione B Corp per il gruppo Chiesi, la certificazione che appunto attesta l'impegno dell'azienda non solo per ottenere un legittimo profitto ma anche nei confronti della collettività, per cui la B che sta per beneficio deve essere un beneficio anche di tipo ambientale e di tipo sociale. Noi ci siamo fatti spiegare questi concetti da Cecilia Plicco che aveva incontrato qui a Milano nel corso di un evento rivolto alla stampa che si è svolto presso la Fondazione Veronesi. Il docente dottoressa Plicco, innanzitutto che cos'è questa certificazione, che cosa vuol dire in termini concreti averla ottenuta? La certificazione B Corp è un riconoscimento che un'azienda può ottenere di elevati standard di impatto sociale ed ambientale e di trasparenza. Che cosa vuol dire averla ottenuta? Significa per un'azienda entrare in un movimento di altre aziende, ad oggi circa 3.000, che adottano un nuovo modello di fare business e che quindi usano il business come forza positiva di cambiamento. Ma non sono in contrasto il fare business e il pensare alla qualità, all'ambiente, occuparsi di cose che apparentemente non sono in prima linea per un'azienda privata? La certificazione B Corp si basa su un assessment che va a valutare a 360 gradi il modello produttivo, il che cosa fa un'azienda e quindi in questo modo l'azienda ottiene dei suggerimenti, degli input per andare a migliorare il proprio impatto. Quindi non è un qualcosa che è separato dal business ma è un qualcosa che l'azienda integra nel proprio modo di fare impresa, che deve evolvere, che deve cambiare andando verso uno sviluppo sostenibile migliore. Senta, ma si dà un esame promosso e bocciato oppure c'è un iter di avvicinamento alla certificazione che comprende una serie di attività? Ecco, ci racconta un po' com'è andata. C'è un iter di avvicinamento, noi per esempio siamo partiti nel 2017 con i primi assessment, eravamo sicuri di volerlo fare a livello di gruppo, quindi non solo qua in Italia ma in tutte le 29 filiali del gruppo Chiesi abbiamo avviato un percorso che è durato circa due anni e che ci ha portato nel 2019 a diventare la più grande azienda farmaceutica certificata. Non è finita qui perché ad oggi abbiamo in piedi un piano di miglioramento di cinque anni e abbiamo l'obiettivo nel 2022, quando ci sarà la nuova verifica del punteggio, di avere un punteggio migliore, quindi di migliorare il nostro impatto sociale ed ambientale. Senta, ci fa qualche esempio di cose che avete cambiato per ottenere la certificazione o per avere un punteggio più elevato, cose pratiche così capiamo meglio? Allora, sicuramente un'area dove all'inizio avevamo un ambito di miglioramento che era rilevante per noi era quello dell'impatto ambientale, abbiamo rianalizzato tutti i nostri processi, abbiamo analizzato il nostro consumo energetico, l'utilizzo delle risorse e messo in atta azioni che ci permetteranno, ci stanno permettendo e ci permetteranno di ridurre questo tipo di impatto. Ci siamo inoltre dato un obiettivo sfidante che è quello di diventare carbon neutral al 2035 e quindi da qui attiveremo un percorso che ci permetterà gradualmente di ridurre, ad arrivare il bilancio zero delle nostre emissioni di carbonio. E' anche cambiato il modo di produrre i farmaci oppure intendete cambiarlo? La certificazione B Corp entra nel modo di fare imprese e quindi anche nel core business, nelle aziende, per noi significherà e sta significando integrare maggiormente la prospettiva del paziente all'interno dello sviluppo del farmaco in tutte le sue fasi, siamo un'azienda che è basata sulla ricerca e quindi fin dalle prime fasi di sviluppo del farmaco stiamo portando avanti azioni e portiamo avanti azioni che integrano dal punto di vista del paziente in modo da poi portare sul mercato soluzioni più efficace e che vanno a rispondere effettivamente ai bisogni dei pazienti.